Bentrovati nel mio canale, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla serie turca Endless Love. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e attivare la campanella per essere sempre aggiornata. Scopriamo insieme cosa accadrà nella seconda stagione. Asu non può immaginare la vita senza Kemal. Distrutta dal dolore dopo la loro rottura, la giovane decide di togliersi la vita e di liberare l'ingegnere affinché possa essere felice con Nian. Kemal ascolta il suo messaggio di addio e torna subito a casa. Appena viene a sapere del tentativo di suicidio di Asu, Emir si recca d'urgenza in ospedale per scoprire in quali condizioni si trova sua sorella. Succede qualcosa di inaspettato. Vedendola priva di sensi in un letto, dopo aver tentato di togliersi la vita, Emir dimostra per la prima volta l'amore e l'unione che prova nei suoi confronti. Asu non è più sua nemica e non poteva sopportare di perderla. Per la prima volta, Emir ha bisogno di qualcuno. La vita insiste nel farli incontrare, ma Nian non vuole mettere in pericolo la vita di sua figlia o di Kemal. Il loro continua ad essere un amore impossibile e proibito a causa di Emir. Non potranno mai vivere in pace ed è per questo che devono prendere strade separate. La difficoltosa decisione di Nian. Dopo essersi ritrovata coinvolta in un'altra situazione pericolosa, Nian prende la decisione più difficile. Chiede a Kemal di aprire il suo cuore ad Asu e permettersi di essere felice con lei. Non chiudere il tuo cuore. Aprilo. Abbiamo fallito. Il tuo cuore mi ha dato la vita. Lascia che dia vita agli altri. Non perdetevi il romantico addio di Nian e Kemal.